Siamo scomporti dalla morte di Salva. Non ce l'aspettano a chi. Non posso ancora crederci. I mani più forti e più davvero coraggiuti non li ha mai conosciuto. Un istante. È vero. Ora toccando. È solo me per condurre questi uomini e cadere in questa zona. Il fuoco di contrae dal aeroporto di Penedio sta partendo i nostri aerei. Prendere questo aeroporto è la nostra priorità. Facciamo il culo ai giapponesi. Dai. Nello scorso episodio hanno ucciso il sergente Sullivan. Adesso quindi quello che prima era Capitano Orb, Zoe Book, adesso è sergente. Infatti no, non era lui. Sono loro. No. Che vuol dire PBT? Tipo... Coglioni. Sono un coglione. Cioè... Puoi chiagliare. Oddio! No! Naccia quella la alla. Questi giapponesi sono super infami perché... Secondo me la Heavy Games, la cosa che ci spuglia, l'ho presa da qua perché... Scusate ma... È un'infamata assurda. E poi... E poi... Come fai a non aspettartelo? Dai! No! Vaffanculo! Morite male! Morite male! Morite male! Oddio! Morite male! Borre! Borre gli ho livato... Borre! E non shield! Borre! Eh, porca... C'è... Oh ma quanti siete? Cioè poi non sono così tanti Quanti siete? Però non possono essere tutti soldati E dai Ci saranno anche donne e bambini penso Che non vanno in guerra Spero Ci saranno anche vecchi Ci saranno gente che non va in guerra Quanti siete? Soldato Oh E comunque una cosa che mi piace Che non sei tu il sergente Quindi non comandi tu Così non dà troppe manie Di protagonismo Perché se no Già ne dà tante Poi eri pure il generale Oh cosa ho fatto? Bro Bro Come si diceva Come si diceva Non scoop Non scoop Bro Bro No vabbè bro E niente Vi prego mi fate entrare nel team Dai Bro guarda che edit Edito bene Oh la smetti Oh la smetti Ma scassata Oh Che se quella era Sono vicini No No Non l'avrei mai detto Non l'avrei davvero mai detto Siamo in guerra Sul loro territorio Non l'avrei mai detto Che erano vicini Ma Oddio 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 Con quale tono della voce Ho detto Oddio Non sei morto te Oddio Atterrito Non è ancora finita Quando sto registrando Quale sono E no era Ok Ma quanto faccio ridere Perché è morto Oh Muori Eh Sessanta colpi Lo so Ho sprecato un caricatore Solo per te Basta 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 Chiedo perdono Perché le mitragliate Ci sono così smirate Ma Qua detto Uncink 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 Ma Wow Ma Uau Bro Allora Allora Sei fortissimo Sei fortissimo Bro Ma Bro però la minigun la volevo io boh ma dai no però no io abbandono ti levo l'amicizia no 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 boh dai l'avevo trovata io no qua mi serve un lanciapiamme ma dove lo trovo eh non c'è qui dovrebbe servire il lanciapiamme no ma non c'è me lo dai a me il lanciapiamme me lo dai a me il lanciapiamme ricordato lo volevo io il lanciapiamme oh uno gli ha fatto qualcuno si vabbè lui inizia a sparare fuoco no ma sarai stupido oh si lanciapiamme oh e dai su oh 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 mi piace fuoco capito anche tu beh che non si fanno niente invece nei galabduti nuovi anche se spari un colpetto al mignolino del pietino del soldato che non sa manco come si chiama fuoco amico ricomincia la missione mannaggia e ti spari da te prendi se sei americano ti spari prendi quel fucilio di tuo padre ah ma voi aspettavate me e ditelo ma quanto è bello il lanciapiamme correte si però corrono lenti ah si che qua c'era la cosa più era la cosa più probabile del mondo cioè hanno fatto già 42 imboscate te lo devi aspettare che mezza cespugli d'arrivano no eh mannaggia prendi fuoco tu 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 ho detto ho detto tu e poi gli alberi ricrescono ma cos'è il gioco è che mannaggia la misera io non ho manco un computer non mac per in casa non lo trovo possibile allora io voglio modificare la wii l'ho modificata però senza sd quindi non posso scaricare i giochi ho l'ombrue ma non posso scaricare i giochi quindi mannaggia io voglio il come si chiama il windows per ste cose si per il resto il mac dai raga windows comunque costa mezzo euro si ma ora mi spiegate dove devo andare boh dove vado boh ma di raghi raghi ma dove devo andare sono da solo che vuol dire young raghi oder bello io direi che mi preparo a tenere la frecchetta giù perchè lassù sull'albero merde Anche io voglio bere un Giappone L'anzai Dai raghi Basta fare così No, no, lui non entra nel team No, no E dai Agli RS ne serve uno forte Questo non sa neanche fare scalamuro Dai No, no, a me dobbiamo fare le victory E dobbiamo fare le views Con il nostro canale YouTube Da due iscritti Uno sono io da un altro account E uno sono io da un altro account Poi parlo io faccio un canale YouTube Da 250 iscritti E comunque Sono contento Lo shish non si dovrebbe infamare Però Fa figo Dire polko shish Polko shish Polko shish Perchè anche se sto tipo 3 metri dalla tv Il fumo nel gioco Mi fa lacrimare gli occhi Ue, boh Un'entrata nel team Eh no Non è entrata nel team Ali di pollo Che vuol dire ali di pollo? Ma perché ali di pollo? Eh, sono caldo Guardate quanto è bellissimo Non è entrata in realtà Mi realtà Porca Eh, è schish SIS Eh vabbè Brexit is Brexit Brexit is Brexit Hai capito? Non ho mai cambiato l'arma Perfetto Nino 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 Lo faccio uguale Niente io faccio il doppiatore Della ambulanza e ne filmo adesso Nino 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 Nasce a quella che Si scopa a tua madre Non è già quello Un giapponese Oh Ok Il checkpoint è raggiunto Ora però mi dici dove devo andare Ok bravo Ok bravi Abbiamo un uomo a terra Mannaccia A me ci serviva quell'uomo Però ora è a terra Mannaccia Ma però davvero Sti giapponesi Dovrebbero essere morti Tutti Sterminati Ok Alcuni ne ho uccisi Ah mi ha fatto cura C'era con la manina Con la manina Sì con la manina Come ve lo faccio Con i piedi No Dai No 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 Penso che tutti, chiunque abbia giocato al Calabiute, almeno una volta, se perde il lanciafiamme si spara. Vai! Sì! Sì! Ho vinto. Sì! 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 Non siete morti! Non siete morti! no però sta cosa cioè se c'è lancia fiamme sta cosa è inutile che poi è inutile già di per sé però poi con lancia fiamme diventa veramente di un'inutilità sconcertante cioè io mi punto Contra attacca Contra attacca dai non mi si sminchia wow la visuale oh e dai no vabbè no no penso di aver detto più no in questi 20 minuti che in tutta la mia vita l'ho usata lui la mia espressione ma che cazzo oh guarda cioè stavo proprio lo stavo per dire mi giuro e questo era il terzo episodio e il quarto ci sarà domani dopo domani quando pubblico il video quando mi va ok non